Avanti, l'estrazione continua! Tocca a me! Chissà chi prenderò! Perde? Ciao bambina, sono Aquaman! Come sei entrato lì? Vieni, ti racconterò tutto! Chi riceverà la prossima Pokéball? Posso? Chissà chi troverò! Ciao mia cara, sono Ariel! Wow! Allora sei felice, piccola? Certo che sì! Andiamo! Incredibile, chi altro vuole tentare la fortuna? Spero di essere fortunato! È pesante! Ciao a tutti! Cosa? Il fuoco è fuori moda! Non sei felice di vedermi, ma perché? Volevo un abitante del mare e tu al massimo sei un vulcano! Ma non è colpa mia! Perché fai così? Qualcuno sta piangendo! È Charmy! Che triste storia! Non piangere! Piangere non ti fa bene! Come posso aiutarti? Nessuno mi vuole! Non essere sciocca! Forse la conchiglia ti dirà quale coda ti sta meglio! E voi cosa ne pensate? Quale Luca è meglio per Charmy? Scrivetelo nei commenti! Io penso che le stiano bene tutte! Con chi stai parlando? Non voglio niente! Charmy, questa è la tua occasione! Non servirà niente! Vado a casa! Rimettiti insieme! Testa alta, Charmy! Ti renderemo la sirena più famosa del mondo! Faremo una vera pinna! Hai capito? Sì, signore! Voglio dire, signora! Sto scrivendo tutto! Niente lacrime! Nessuno le vedrà sott'acqua! Sei in un'unità marina delit! Puttalo via! Azione! Bene! Avanti! Prima ti faccio un taglio di capelli come si deve! Non ce n'è bisogno! Ti piace il fuoco, vero? E lo chiedi? Cosa? Pensavo che io e te fossimo sott'acqua! Ed ecco il mio pettine! È ora di districare queste trecce! Sei sicura che non stai cercando di mangiarmi? Dammelo! Ma che pettine! Che strana forchetta! Non hai capito, è per i capelli! Beh, ti credo sulla parola! Anche se è più facile mangiare con questo! Ok, mi pettinerò i capelli mentre lei è distratta! La la la! La la la! Ottimo! Non distrarti! Il cibo dopo i capelli! Che ti prende? Stai seriamente mangiando con una spazzola? Beh, non si mangia con le mani, no? Quindi ridammela! Senza speranze! Ah, che cos'è? Un vostro di pasta? È tuo? Ci siamo! Ariel, smettila! Oh no! I miei baffi da coach! Ok, andiamocene di qui! Salvami, per favore! Mi ha rinchiusa qui dentro! Apri la capsula! Come sei finita lì! Vedrò cosa posso fare! Tira la leva! Vai! Oh! Grazie, Charlie! Sei la migliore! Oh no! Attenzione! Oh, ti ho presa! Ci penso io! Eh? Ehi là! Cosa stai facendo? Va bene, penso di vederci doppio! Oh! Cosa? Ancora? La smetti di copiarmi! Stavo solo provando un nuovo look! E non è molto comodo! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo la pietra magica! Provala! Wow! Una vera coda! Grazie! Sei felice? Oh sì! Wow! Ne voglio una anch'io! Oh, per favore! Oh, ha funzionato! Ho la coda! Fantastico! Penso che piacerà molto ai miei follower! Super cringe! È un filtro da pesci! È Aquaman! Non è giusto! Perché ha ottenuto lei tutta la fama? Non è giusto! Che stai facendo? Sono io quella che dovrebbe piacere ad Aquaman, non tu! Cancello tutto! Oh, stai mandando fiamme? Oh! Che donna focosa! Smettila! Ovviamente deve rinfrescarti! Evi, come stai? Se solo l'avessi saputo, sarei rimasta da Eggman! Charmy, non si fa così! Torniamo al nostro piano! Beh, cosa devo fare? Iniziamo con il trucco! Mi fa il solletico! Oh no! Niente panico! Le pinzette non basteranno! Scusa! Ehi, aspetta! Le riprenderemo se necessario! Ah! Che male! È disgustoso! Ora sistemiamole! Posso vedere? Ottimo! E le labbra sono pronte! Le voglio anch'io! Wow! Stai battendo il record! Cosa ne pensi? Sai, manca qualcosa, ma... Cosa? Oh, lo so! I glitter! Che bello! Mi piace! Ne sono felice! Ma non abbiamo ancora pensato ai capelli! Aspetta un minuto! Pronto? Sto ascoltando! Ha bisogno del tuo aiuto! Non dire un'altra parola! Fammi vedere! Charmy ha bisogno di una nuova pittinatura! Sì, penso di poter fare qualcosa! Che ne dici di queste? Sei sicura che mi staranno bene? Scusa, sono concentrata! Penso che andrà bene! Non ci sono dubbi! Wow! Grazie, ragazze! Sono fantastica! Charmy, sei irriconoscibile! Ehi, il pagamento! Cosa? Ah, sì! Grazie! Cosa? Non siamo nell'età della pietra! Dove sono i soldi? Quanto sei materialista! Così va meglio! Arrivederci! Ciao! Charmy, ti piaci? Oh, sì! Oh, lo so! Ops! Ho sbagliato un po' i calcoli! Ed ecco proprio quello che stavo cercando! Una collana di perle! Sono sicura che a Charmy sarà benissimo! Bene, bene, bene! Ariel! Oh, no! Magia di Trumfood! Tesoro, questa è per te! Provala! Wow! Che bella! Grazie! Sono felice che ti piaccia! Cosa? Penso che qualcuno mi stia chiamando! Pronto? Sto invitando tutte le sirene del regno a una festa! Fantastico! Che bell'uomo! Ciao! Ciao anche a te, bellissima! Che uomo! Sono in fiamme! Ah! Calma, Charmy! Brucerai tutto! È ora di rinfrescarti! Oh, scusa! Questo outfit non va bene! Cosa vuoi dire? Così va meglio! È fuori moda! Finalmente! Pensavo che non l'avrei mai usata! Super trendy! È tutto merito suo! Ecco qua! È un toccasana per il cattivo gusto! Stilista, scelgo te! Bene, bene, bene! Sono in una discarica! Ciao, Miau! Che orrore! Dove hai trovato questi abiti? Mi aspetta una vera sfida qui! No, questa sembra una vera topaia! Bene, bene, bene! Penso che ne verrà fuori qualcosa! Cosa ne pensate, pesci? Provalo! Wow! Mi piace! Questo outfit ti sta molto bene! Brillo come una stella! Grazie, Miau! Prego! Ora è tutto perfetto! Quindi è lì che si nascondono! Ora non mi scapperete! Questo è il mio più grande tesoro! Ed ecco il mio tesoro! Che cos'è? Non capisco! Oh, non ho visto il cartello! Dannazione! Almeno la pietra non è stata danneggiata! Ma immagino che voi non sarete così fortunate! Oh no! Paura? Cosa facciamo? Oh! Ora tocca a me! Oh! No! Ah ah ah! Beccato! Ora sei il pesce Eggman! Non è male con la coda! È tutto a causa vostra! Come faccio a riavere le mie gambe? Siete finite! Ho sentito bene! Ho sentito bene! Qualcuno è in pericolo! Arriba Super Snorlax! Non ridete più? Non ridete più? Ehi! Vattene di qui o ti pentirai di esserti presentato! Mi hai sentito? Cosa sta succedendo? Non ne ho idea! Non ne ho idea! Ah ah ah! Debole! Ma da dove vieni? Dammi la mia pietra! Prova a prenderla! Cosa c'è che non va? Le mie gambe! Che razza di magia è! Wow! Penso che me ne andrò! Ciao ciao! Evviva! Grazie Snorlax! Prego! Sono Super Snorlax! Sei il nostro eroe! Oh andiamo ragazze! Mi state facendo arrossire! La mia pancia! Vado a riempirla! È così carino! Qualcuno ci sta chiamando! Ragazze non vi siate dimenticate della mia festa vero? Sto aspettando che arriviate! La carrozza è qui! Andiamo! Ciao! Dov'è il parcheggio? Vi piace la mia festa? È semplicemente fantastica! Eccoci! Ehi! Sono qui! Solo un secondo Ariel! Cosa? Oh quella scatoletta di pesce! Togliti di mezzo o te ne pentirai! Penso che sia uno strike! Perché? Wow! Mamma! Cosa c'è che non va in voi? Oh no! Bugiardo! Come hai osato? Ragazze, tornate indietro! Che problema c'è? E adesso? Ok Charmy lascia perdere! Non preoccuparti caro, non ti meritano! E io? Ariel? Lasciatemi uscire! Un altro pezzo da collezione! Ross mi pagherà bene! Ehi, ti interessano i Pokémon rari? Mostrami prima i soldi! Adesso stiamo parlando! Posso averla? Prendila! Non hai ancora visto una Pokéball come questa? Il nuovo oggetto è una vera sirena! Wow, i Pokémon sono entusiasti della loro nuova collega! Ariel sembra davvero adorabile! Come non adottare una principessa del mare? Purtroppo la potrà prendere solo una persona! E sarà... Giovanotto in fondo alla sala! Vieni sul palco! L'arco al vincitore! Sembra che Ross abbia fatto una bella battuta di pesca stasera! Piccio non pensa che i giudici siano stati impartiali! Ross merita solo di essere preso a calci! Ash, come sei arrivato qui in tempo per firmare i documenti? Non negheresti a Piccio una nuova amica, vero? Sembra che il giudice non sapesse della reputazione di Ross! L'affare è annullato! Non dovresti avere più niente a che fare con i Pokémon! Ariel ora fa parte del team! Vostra altezza! Questa è la vostra nuova casa! Sentiti come un pesce nell'acqua! Piccio non vede l'ora di giocare con la sua nuova amica! Aspetta un minuto! Questa è la collezione di Ash! Quanti Pokémon ci sono! Finalmente Ariel può guardarla! Oh no! Penso che sia la Pokémon di Piccio! Ariel non avrebbe dovuto prenderla! Sembra che Piccio non avesse intenzione di giocare a un nascondino! È molto scontenta! E cosa sta facendo Ash? Penso che stia sistemando! E a giudicare dalla foto? È proprio il caso di farlo! Con la nuova ospite bisogna adattarsi! Sembra che dovremo dimenticarci del sushi! Come faremo a vivere adesso? Ariel sta pensando alle comodità! I pesci sembrano divertirsi tanto nell'acquario! Forse Ash può fare in modo che anche lei sia sott'acqua! Sì! Sott'acqua! Ash, hai sbagliato tutto! Come hai potuto pensare a una cosa del genere? Che farò di meglio! Che mancanza di rispetto per la principessa! Sorpresa! Ora ti ho presa! Sembra che non si voglia rendere alla sconfitta! Che mascalzone! Ma Ariel non tornerà da lui! Allora Ross si accontenterà di un altro souvenir! Ash, aiuto! L'allenatore si è lasciato prendere la mano dal tema nautico! La povera Ariel ci ha provato, ma non è riuscita a salvare Pichu da Ross! Spero che stia bene! Chissà perché Ross vuole la piccola Pichu! Penso che sia ora di chiamare i rinforzi! Pikachu, scelgo te! Cos'è successo di così grave da distrarla dal ketchup? Dobbiamo dirle tutto! Pichu! Pichu! Perché sono tutti così tristi? Sarà difficile dirle che è scomparsa! Le micce di Pikachu sono saltate! Di nuovo Ross! Ehi, dove è andato tutto? Rompere la TV per ripararla non è una buona idea, Snorlax! Dovresti fare qualcosa in cui sei bravo! Chi sarà la ciambella sfortunata questa volta? Quella alla fragola! Snorlax la adora! È stato il televisore? Oh oh, sembra che qualcuno sia in guai seri! Se vuoi continuare a mangiare ciambelle, devi collaborare! Ma la TV non funziona! Pikachu è un elettricista di primo ordine! Per sistemarla in un batter d'occhio! Guarda, funziona! Penso che Pika abbia trovato ciò di cui aveva bisogno! Ci sono Ross e Pichu nelle riprese delle telecamere! Che mascalzone! È meglio che Ross non si lasci vedere da Pikachu! Guarda, ci sta prendendo in giro! Ecco di nuovo l'immagine! Ora che Pika sa dove sta andando, non c'è modo di fermarla! Pikachu, calmati! Devi calmarti! Snorlax è un generatore di idee! Penso che questo caso sia perfetto per la Detective Beedrill! Pikachu ha ritrovato la fiducia! Hai dimenticato come si mastica? Pikachu, faresti meglio sbrigarti! Rapidash si prende cura del laboratorio di Ross in sua assenza! Guarda cos'ho! I stinchi di Ross non dimenticheranno i surdoli pugni di Pichu! Ma sembra che Pichu fosse l'elemento mancante nel loro subdolo piano! Pichu non si arrende mai! Vediamo come te la caverai dopo l'esperimento! Vuole usare la scienza per trasformare Pichu in una Pichu malvagia! Niente, sembra poter fermare i due cattivi! Sostituzione del gene buono con quello cattivo! Ross è super eccitato! Finalmente sta riuscendo in qualcosa! Tutti i generatori e i circuiti sembrano funzionare a pieno regime! Ed ecco il momento della verità! Sta funzionando! È incredibile! Sembra che manchi solo un'ora alla trasformazione! Ross riuscirà davvero a farla franca! Torniamo all'appartamento di Ash! A Pikachu prudono le mani! I ragazzi sono altrettanto sconvolti per la scomparsa di Pichu! Ash cerca di calmare Pichu! Sta per esaurire la batteria! Ariel spera di ottenere un aiuto dai pesci! Forse sanno dove si nasconde Ross! Forse sono in combutta con Ross! Siamo senza speranza! Pikachu non sa cosa fare di se stessa! Ariel cerca di calmarla con una leggera brezza! Da dove vengono tutte quelle api? La detective Beedrill ha letto il suo messaggio! Ma cos'è successo? Sì, esatto! La detective è arrivata giusto in tempo! Tutti hanno qualcosa da dirle! Ma soprattutto stanno cercando un Pokémon scomparso! Bene, Beedrill è sul caso! Per prima cosa dobbiamo perquisire la scena del crimine! L'unico indizio per ora è il cappello di Pichu! Non si può nascondere niente agli occhi di Beedrill! Ketchup! Questa è la seconda pista! Qualcuno stava mangiando sul divano! Wow, è miele! Il caso è chiuso! Beedrill ama il miele! Prove distrutte! Ma non è il miele il cattivo! Dobbiamo isolare la scena del crimine nel caso ci siano altre prove gustose! Il team vuole sapere se è riuscita a scoprire qualcosa! La detective sembra aver già individuato la pista giusta! Queste orme a forma di zoccoli sono sospette! Avrebbero notato un cavallo! La mente di un vero detective deve essere fredda! Dobbiamo controllare l'intero database criminale! È decisamente Rapidash! I ragazzi non riescono a credere che Rapidash sia con Ross! Penso che ci stia aspettando una grande resa dei conti! Ash, cos'è successo alla tua squadra? Ariel, hai visto Pikachu? Eccola! Adesso nasconditi! Ariel, farai saltare la copertura! Se Beedrill aveva ragione, sono proprio dietro l'angolo! Giusto in tempo, detective! Ecco la complice! Cosa ci fa qui? Wow! Non vorrei essere io il bersaglio! Pikachu non vede l'ora di vendicarsi! Ma dobbiamo essere cauti! Dobbiamo fregarla! Rapidash sembra non accorgersi di nulla! Cosa? Una mela? Puoi considerarla una cena d'addio? Il team non ha mai visto Pikachu di questo umore! A quanto pare non è bastato un solo colpo! Ma Pikachu non ha intenzione di tirarsi indietro! Bene! Ora può prendere la mira! Oggi fuoco e fulmini si scontreranno! Pikachu carica la palla di fulmine più potente! Rapidash riesce a bloccarla! Pikachu è pronta a domare il Pokémon con le corna! Toro! Toro! Oh oh! Sarebbe stato meglio se Pikachu non l'avesse fatto! Rapidash sta prendendo una carica estrema! Dal viare proteggerà la sua regina! Che sfortuna! Spero tu non si allergica alle api, altrimenti saranno guai! Ah! Sembra un cappello! Rapidash non è dell'umore giusto per gli scherzi in questo momento! Ariel raffredderà il Pokémon di fuoco in men che non si difa! Sì! Anche le sirene hanno dei superpoteri! Vidri! Non dimenticare di prendere il tuo aldeare! Te la sei cavata piuttosto male oggi, Rapidash! Il team di Ash va alla grande oggi! Vero Pikachu? Rapidash gli dice di non saltare a conclusioni affrettate! La loro amica ha solo dieci minuti di vita! Ross rende davvero cattivi tutti quelli con cui interagisce! Il tempo sta per scadere! Rapidash è riuscita a scappare! Ora devono rimettersi in sesto per salvare Pichu! Al laboratorio di Ross! Dove tiene Pichu? In questo momento la Detective Beedrill potrebbe essere utile! Penso che Pikachu abbia trovato qualcosa! Guardate! Forse lei è lì dentro! Ash! Guarda! Ariel non vede l'ora di liberare la sua amica! Oh no! L'acqua conduce troppo bene l'elettricità! Ariel dovrà stare più attenta la prossima volta! Sembra che Ash debba prendere in mano la situazione! Sembra doloroso! Ash andrebbe a capofitto contro i muri per salvare Pichu! Il nostro team si è fatto male senza nemmeno entrare in laboratorio! Pikachu ne ha avuto abbastanza! Il destino di Pichu è nelle sue mani ora! Ash abbassati! Prova ad aprirla e vedi si è sbloccata! Togliti di mezzo! Pikachu ti mostrerà come si fa! C'è qualcuno a casa? Aspetta! Forse hanno lasciato le chiavi sotto lo zerbino! Oh! Ross! Potresti nasconderle meglio la prossima volta! Sembra che l'intera squadra sia tornata in pista! Pikachu, sbrigati ad aprire la porta! Non essere nervosa! Ce la puoi fare! L'attesa è il peggior tipo di tortura! Ross non ha proprio pazienza! Pikachu, fallo per Pichu! La squadra ha deciso di riscaldarsi prima del combattimento! Non distrarti, Ariel! Quante chiavi ha, Ross? Ne è rimasta solo una! Sì, Pikachu! Ce l'hai fatta! Ehi, sveglia! Dovete salvare Pichu! Quanto tempo dobbiamo aspettarvi? Andate in laboratorio! La squadra è entrata nella tana del cattivo! Mi chiede dove nascondere la loro piccola! Eccola! Le ragazze sono finalmente tornate insieme! Nel Ross né il palloncino possono mettersi tra loro! Anche ad aria il manca Pichu! Pika, stai attenta! Ross è proprio dietro di te! Era una trappola! Pichu era solo un'esca! Le ragazze sono così entusiaste di vedersi che non si accorgono della minaccia! Oh no! Ross è pronto ad aggiungere altri Pokémon alla sua collezione! Pichu, girati! Ross è dietro di te! Sarebbe il momento di sparare nella direzione opposta, Pikachu! Ross non aspetta che le ragazze finiscano di giocare! Non di nuovo! Non è ancora il momento di arrendersi! Ash condivide un piano con la sirena e lei è pronta a sostenerlo! Non mentalmente, Ariel! Mostra le tue abilità! Non puoi fermare Ross con le bolle! L'incubatrice è già sovraccarica! Solo un miracolo può salvare i ragazzi dal pallimento! È ora che la signora dell'acqua mostri il suo vero potere! Il terrore dei mari e degli oceani! La sirena Ariel! Questo tsunami è per te, Ross! Trattieni il fiato! Sembra che il tuo piano sia andato in fumo! Ariel, ci sei riuscita! La mamma non ti ha insegnato a stare lontano dalla corrente quando hai le mani bagnate? I Pokémon sono di nuovo al sicuro! Eccole! Che ricongiungimento gioioso! Ash, hai rapinato un parco acquatico? La squadra di Ash è tornata insieme! E Ariel sembra adattarsi perfettamente al mondo dei Pokémon! Eh, quasi! Sì, siamo fantastici! Oh, devo scappare! Ehi, cosa fai? Vai via? Nettuno ha un incontro importante! Ecco fatto, sono pronto! Spero di non mancarti troppo, tesoro! Papà è andato via per affari! Quindi Ariel ha trovato un intrattenimento interessante! Brava! Wow, che bel ciondolo! C'era una volta il bel Ross che lo regalò a un'altra ragazza! Ma lei non apprezzò il regalo e lo gettò in mare! In quel momento la sirena si stava rilassando sott'acqua lì vicino! Esaminò il regalo e decise di tenerlo per sé! Che problema! Il principe Ross non si arrabbiò per non aver scelto il ciondolo giusto! Quel bel ragazzo stava fissando le profondità del mare! Da qui la sirena lo stava guardando! Che tristezza! Lui non la notò! Ma Ariel si prese una bella cotta per lui! Oh, che dolci fantasie! Oh, lui è incredibile! E' ben educato! Cos'è? La sirena ha ordinato un pacco che l'aiuterà a trasformare la coda di pesce in gambe! Una conchiglia? Sul serio? Ma ci deve essere qualcos'altro nella scatola! Ok, è chiaro! Devi aggiungere un po' d'acqua! Ariel non ha problemi a farlo! Una mossa ed è fatta! Questa è la strega Ursula! La principessa del mare vuole tanto diventare una ragazza normale! Aspetta un secondo! Allora cosa c'è? Ops! Le morbide gambe di Agiwaghi! No, non è ciò di cui ha bisogno! Va bene! Tentativo numero due e... Vediamo! Ma dai! Ariel non è Kissi Missi! È ancora sbagliato! È ancora sbagliato! Ok! Il terzo tentativo dovrebbe avere più successo! Wow! Queste gambe sono meravigliose! Ouch! Eh, deve ancora abituarsi! Poverina! Stai bene? In cambio della sua magia, Ursula vuole la voce di Ariel! L'ingenua sirena accetta l'accordo! Ora la strega possiede la sua voce! È terribile! Ed è ora di far innamorare il ragazzo! Può incontrarlo a scuola! Non dimenticare lo zaino! Ciao, ciao! Oh, è così malvagia! Il bel rosa è una star a scuola! Ariel, hai dimenticato di non avere più la voce? Oh, forse un megafono aiuterà! Bla bla bla! In modalità silenziosa! Tutti i suoi sforzi sono inutili! Cosa fare? Oh, sembra che Ross l'abbia notata! La sirena sta cercando di dirgli chi è innamorata! Capirà il suo messaggio! Ehi, giochiamo a charade! Io! 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 Sì, capito! Ti comprerò! No! Non ha capito niente! Lascia perdere! E andiamo avanti! Ursula usa molto la voce di Ariel! Canta al karaoke tutto il giorno! No! La sirenetta è una pessima compagna in un duetto vocale! La poveretta si lamenta perché nessuno la capisce! Ma se la strega le riderà la voce... Si riprenderà le gambe! Ho un'idea! Guarda! Esatto! Ursula ha dato alla sirena un'idea per il trucco! Ma può fidarsi di lei? Eh, probabilmente no! Nel frattempo, Ariel ha chiesto aiuto agli stilisti! È davvero una moda? È uguale alla foto! Ecco la top model Ariel! Ci siamo! È pronta per incontrare Ross! Cosa sta combinando Ursula? Di certo niente di buono! La sirena è arrivata a scuola! Guarda! Ross è sotto incantesimo! Ed è inutile chiamarlo! Chi lo sta incantando? Wow! È la cattivissima Ursula! Ciao! Prima ha preso la voce della sirena e ora vuole portarle via Ross! Ariel non avrebbe dovuto dedicare tanto tempo al trucco! Quello che ha sul viso è un fallimento secondo la rivista Trumpolitan! Guardala! La strega ha preso ridicola la principessa e le ha portato via la bellezza! Deve fare qualcosa! Ma per cominciare è meglio lavarsi la faccia, tesoro! Molto meglio! È ora di seguire la coppia! A proposito! Hanno appuntamento in un locale! Oh! La sirenetta ha scoperto come spiare Ursula e Ross! Cosa sta succedendo? Ariel ha distratto la cameriera e ha deciso di sostituirla per un po'. Bene! È ora di ordinare! Sembra che Ursula abbia riconosciuto la sirena! Il travestimento non è stato d'aiuto! Ah? Ross? Stai ascoltando? La strega ha deciso di ordinare dei frutti di mare per infastidire Ariel! Allora, cominciamo col salmone! Oh no! Ariel sta letteralmente tremando di rabbia! E le aragoste, per favore! E voglio anche i granchi! E non dimenticare i secondi antiposti! Ok, puoi smetterla! Oh! L'acqua fredda ha riportato Rosa alla realtà! Clac! E Ursula gli ha fatto di nuovo un incantesimo! Non preoccuparti, sirena! Almeno ora sai che è sotto incantesimo! Ma come sbarazzarsi della magia malvagia? Uh! Stai attenta! Ehi! Ho qualcosa per te! Un dollaro!